Ciao amiche, ciao amici, bentrovati sul canale, benvenute in un nuovo video. Naturalmente, come nei due video precedenti, non mi mostro per il solito problema dell'intervento che ho subito alla bocca. Ringrazio tutti i commenti in privato e sotto i video che mi sono arrivati per sapere come stavo. Ringrazio in particolar modo Tina, che è una mia iscritta che mi segue con tanto affetto, che oggi mi ha mandato uno splendido pacco con dei dolcetti fatti da lei a base di pasta di mandorle, che sono la fine del mondo ed è stata anche gentilissima ad includermi un prodotto per la pulizia, di cui poi vi parlerò una volta testato perché io qui da me non riuscivo a reperirlo e la ringrazio anche per il bellissimo biglietto che accompagnava il tutto. Sono molto felice di questo modo che ho di interagire con le persone che mi seguono, soprattutto quando mi si chiedono dei consigli. Anche l'altro giorno in privato, in direct, qualcuna su Instagram aveva chiesto tipo un consiglio, a me fa tanto tanto piacere, soprattutto perché così mi sembra di esservi utile o quantomeno di tenervi compagnia. Video delle scoperte e dei detersivi del periodo. Sono quattro prodotti perché ho tantissimi prodotti che stanno per finire, ma io fin quando non sono conclusi completamente non li cito mai né tra le scoperte del periodo, né tra i prodotti terminati, né tra i prodotti flop, ovviamente che vedrete nei prodotti terminati. Questi quattro prodotti qua che vi andrò a mostrare non li vedrete più nel video dei prodotti terminati perché non mi sembra il caso, iniziamo subito. Iniziamo con questo col citrosil, sgrassatore disinfettante, elimina fino al 99,99% dei batteri, sgrassa a fondo. Presidio medico chirurgico, sono 650 ml di prodotto, è un ottimo prodotto, sgrassa molto 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 bene. Io l'ho utilizzato sia per il piano cottura che per altre superfici, mi piace tantissimo perché sgrassa molto molto bene. È adatto anche ai sanitari, benché esista una versione indicata specifica appunto per il bagno. Pecca di questo prodotto qua forse è un pochino l'odore che non è tanto piacevole, ma pulisce che è una meraviglia. Altra scoperta in ambito dei detersivi, questo cura lavatrice. Il cura lavatrice io lo faccio solitamente una volta al mese, così come il cura lavastoviglie. Ho trovato in offerta a 2,99€ mi sembra questi due, perché sono due dosi della Sole, e ho deciso di provarla. Era presente sia in profumazione classica, ma anche in profumazione al limone. Io ho scelto quella classica perché io non amo fragranze particolari nella lavatrice, e poi anche perché ho d'onor del vero di quella al limone, non ne ho sentito parlare benissimo. Questo ha 6 azioni, rimuove i cattivi odori, rimuove sporco e residui, efficace a testata, pulisce le parti interne, protegge la lavatrice, extra freschezza. Devo dire che il suo dovere l'ha fatto, ora extra freschezza direi proprio di no, protegge la lavatrice speriamo, pulisce le parti interne speriamo. Insomma, è un prodotto che non mi ha dato nessun problema, quindi io ve lo consiglio. Un altro prodotto di cui vi voglio parlare, e di cui tante mi avete chiesto la volta che l'ho mostrato in un video acquisti da Acqua e Sapone, è questo detersivo per lavatrice Marsiglia, nonna papera, 3 litri, 50 lavaggi, che io avevo pagato in offerta, mi sembra 1,89 euro. Allora, iniziamo. La profumazione al Marsiglia è una profumazione che si sente, si sente ma non in maniera troppo forte, quindi per le amanti del Marsiglia va bene, per le non amanti del Marsiglia direi che va bene ugualmente, perché se una mette l'ammorbidente risolve il problema. Personalmente è una profumazione che non mi fa né calda né fredda, non la amo, non la odio, mi va bene. Allora, questo prodotto qua ha una serie di vantaggi infiniti. Uno, lava benissimo sia i bianchi che i colorati, perché io ho provato a lavare con questo e a lavare col dash e mi hanno lavato allo stesso identico modo. Naturalmente la profumazione finale era differente. È molto, molto denso. Basta pochissimo prodotto per avere tantissima schiuma, quindi attenzione quando lo comprate a non abbondare nella dose, a metterne davvero poco, perché fa tantissima, tantissima schiuma. Lava molto bene, è bello denso. Lava al pari di un dash. Non posso dire che lavi meglio del dash o che lavi peggio del dash. Le macchie che mi restano con il dash mi sono rimaste anche con questo, quindi un buonissimo prodotto. Grandissimo vantaggio di questo prodotto è il prezzo che è davvero irrisorio in relazione al quantitativo. E per chi fa tante lavatrici come me o per chi ha una famiglia numerosa ed è costretta comunque sia a fare tante lavatrici per forza di cose, secondo me è un buon compromesso. Basta poi un bello ammorbidente e il gioco è fatto. Devo dire che è un prodotto che mi ha stupito positivamente. Credo che esista anche in un'altra variante di profumo, ma non ne sono sicura. Sicuramente quando lo ritroverò lo ricomprerò. Io l'ho utilizzato per lavare tappeti, stracci, gli stracci anche che uso per pulire. Sono tornati belli, bianchi. Quindi davvero un prodotto eccezionale, soprattutto ripeto perché costa poco, ma vale davvero davvero tanto perché è bello, bello denso, fa una bella schiuma, ha un bel potere lavante. Infine vi mostro questo prodotto qua. Questo prodotto qua è un prodotto che si chiama Sanical. È un prodotto dell'azienda Marbeck che mi è stato omaggiato insieme ad una serie di altri prodotti. Il prodotto è finito, è fondamentalmente un prodotto che serve per lavare i sanitari. Io alla fine del video vi aggiungerò una clip dove mostro il prodotto in azione perché a me piace così quando mi si invia un prodotto se è possibile mostrare il prodotto in azione e farvi vedere come pulisce. Pulisce molto molto bene, va a togliere tutti i eventuali residui di sapone, ma soprattutto fa tornare la ceramica molto più brillante. In relazione alle collaborazioni, lo sanno anche le stesse aziende che collaborano con me, che mi contattano, che sono famosa per la mia severità nelle recensioni. Questo perché per me è fondamentale il rispetto nei confronti di chi mi segue. Quindi se a un prodotto mi è piaciuto e lo reputo valido lo dico, diversamente dico che il prodotto a me non è piaciuto e non lo reputo valido. Ovviamente si tratta di pareri puramente soggettivi. I commenti stupidi del tipo non devi fare un video, in particolar modo citavo mi sembra il pulitore del forno di questa azienda qua o dei pavimenti perché è un prodotto che non si può reperire, è un commento completamente secondo me e a mio avviso stupido perché il prodotto si può reperire tranquillamente su internet. E come si va a reperire su internet? Altro che ci interessa, se ci interessa un detersivo si può andare a reperire anche il detersivo. Quindi per cortesia i commenti maleducati, stupidi, sciocchi, senza senso, privi di una logica, teneteli per voi. Andate a tirare due urli su un monte se avete voglia di sfogarvi, ma non scriviamo sciocchezze, non è un video inutile. I video inutili sono altri, sono quelli dove si dice questo prodotto è magnifico, io ho visto dei video a dir poco vergognosi di youtuber che hanno ricevuto prodotti in collaborazione che sui loro blog li hanno incensati e a distanza di mesi tra i prodotti finiti li hanno demonizzati. Quindi in quello si manifesta la correttezza della persona. Non voglio fare polemica perché non mi va, però quando leggo certi commenti è anche giusto dire le cose. Io non sono stata pagata dall'azienda, l'azienda mi ha dato il prodotto, io ho fatto la mia considerazione. Io aggiungo la clip in fondo al video, laverà naturalmente al pari di un altro detergente per l'amor di Dio. Ma l'efficacia, la rapidità con cui va a rimuovere e la brillantezza che restituisce ad esempio al lavello, secondo me a parità di prodotto questo ha una marcia in più. Naturalmente ha un suo costo, sta a voi decidere se acquistarlo o non acquistarlo. Ovviamente ognuno è libero di disporre del proprio denaro come meglio crede, ma i commenti stupidi non li gradisco. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio, spero di esservi stata utile, di avervi tenuto compagnia. Un bacio a tutte, alla prossima. Un bacio a tutte, alla prossima. Un bacio a tutte, alla prossima.